Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Alessandro Del Piero Noon bada a spese e arriva con un'auto da urlo che non può passare inosservata, ecco come accompagna i figli a scuola L'ex stella della Juventus sorprende tutti con una vettura incredibile che lascia senza fiato, ecco la foto dell'auto di lusso con cui ha accompagnato a scuola i figli Se c'è una certezza riguardo la vita dei calciatori, in particolar modo nei top campionati di Europa, è la possibilità di disporre di una vita agiata anche dopo il proprio ritiro dai campi Non sono di certo sorprendenti le foto di vacanze extra lusso di alcune dei campioni della Serie A, o di altri campionati, come, allo stesso modo, non è assurdo vederli girare con macchine extra lusso, spesso targate dallo sponsor della società per cui giocano Il parco macchine di Mbeppo è o ancor di più di Cristiano Ronaldo, ad esempio, sono tra i più famosi in assoluto sia per quantità che per qualità delle vetture da loto possedute Il legame tra calciatori italiani e auto di marchi nati nel bel paese è poi ancor più forte di quanto si possa pensare Durante gli europei del 2021, osservando il ritiro azzurro, era apparso evidente come le auto più gettonate fossero proprio Ferrari e Lamborghini Anche dopo la chiusura delle carriere da giocatori però la passione resta È questo il caso di Alex Del Piero, passato non inosservato mentre accompagnava a scuola il figlio Tobias con un'auto incredibile Che lusso per Tobias Del Piero! Il papà Alex lo porta a scuola con un'auto pazzesca Alessandro Del Piero è stato tra i calciatori più apprezzati della sua generazione, amatissimo ancora e oggi in particolare dai suoi ex tifosi della Juve i quali, ormai da tempo, sognano un suo ingresso in società Per il momento però, l'ex campione del mondo, vive la sua vita da imprenditore a Los Angeles dove, oltre ad una scuola calcio, ha aperto un ristorante di cucina italiana Grazie anche a questi suoi investimenti, Pinturicchio, può permettersi tutti i comfort da lui desiderati tra i quali spunta un'auto da sogno, le foto con lui che accompagna a scuola il figlio Tobias in Lamborghini fanno impazzire il web Una Lamborghini Urus arancione che anche in un contesto come quello Los Angelino, dove le auto di lusso non sono una rarità, non può passare inosservata e che fa senza dubbio invidia a molti Per Tobias, il primo giorno di scuola non è stato di certo traumatico, un passaggio dentro una vettura di quel calibro sarebbe un grande incentivo per tantissimi suoi coetanei Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video